A metà del 1700 la cultura illuminata, le logge, i filosofi sono pronti per sferrare un attacco alle corti cattoliche, alle corti rimaste cattoliche, alla cultura cattolica. Qua è l'onda protestante che non si arresta e che continua anche se sottomentite spoglie. Che cosa incarnava in qualche maniera il potere culturale dei cattolici? Un ordine religioso prestigioso, la Compagnia di Gesù, fondata da Ignazio di Loyola nel 1534. Da allora i gesuiti hanno fondato collegi, prestigiosi collegi, i migliori collegi in assoluto in tutto il mondo occidentale, in tutto il mondo cristiano. Se uno voleva avere una formazione degna di questo nome doveva andare ai collegi gesuiti. È evidente che i gesuiti tramite l'educazione avevano un enorme potere, non solo, ma i gesuiti erano i confessori dei re, anche i confessori dei re di Francia. Come tali avevano un enorme potere aggiunto con l'influenza che avevano sui principi e sui re, sull'ambiente nobile in generale, sull'ambiente di quelli che contavano in generale. Per perdere questo patrimonio culturale fondato sugli ordini religiosi, le logge e la filosofia inventano un movimento che chiamano dispotismo illuminato. Naturalmente si muovono sempre in nome della libertà. In nome della libertà vogliono un dispotismo. Che vuol dire? Vuol dire vogliono che i sovrani esercitino un potere dispotico, illuminato però, questa è la giustificazione al dispotismo, illuminato da cosa? Dalla luce della ragione, non più dalla luce di Cristo. Dalla luce della ragione. In nome di questa parola che viene presentata sempre bene, come fosse un progresso, che tutto è perché è un progresso, questo dispotismo illuminato, vengono a cominciare dalla metà del Settecento in Portogallo, dove c'è il massone marchese di Bombardo, che sopprime la compagnia di Gesù nel 1759, a cominciare da questa data, a ruota tutte le corti rimaste cattoliche, rimaste ufficialmente cattoliche, ma sopprimono la compagnia di Gesù e insieme alla compagnia di Gesù attaccano la vita, la modalità di vita santa degli ordini monastici, soprattutto quelli contemplativi, i quali, come è noto, si alzano la notte per l'ufficio delle letture, che è, diciamo, è consustanziale allo spirito della clausura, questa preghiera incessante rivolta a Dio, a favore di tutta la comunità. Eh, ma non è ragionevole. E quindi la corona di Francia, nel 1562, sopprime l'ufficio notturno. Come si può alzarsi la notte? Se uno si alza la notte e non dorme, il giorno lavorerà male. È una questione proprio di ragionevolezza, spiccia. Questo dispotismo illuminato arriva in tutte le corti, in tutte le corti. Purtroppo arriva anche alla corte imperiale, alla corte del Sacro Romano Impero, con Giuseppe II, i cui provvedimenti anticattolici, che vogliono staccare dalla comunione con Roma, quindi dalla cattolicità, la chiesa austriaca, la chiesa imperiale, sopprimono un centinaio di conventi meravigliosi, perché i conventi che c'erano in Austria e in Germania erano veramente meravigliosi. Li disperde, li sopprime, sopprime biblioteche, dà lui i libri, decide lui quali sono i libri su cui devono studiare i seminaristi. Questo dispotismo illuminato c'ha un vessillo culturale prestigioso in Immanuel Kant, che nel 1784 risponde alla domanda, risposta alla domanda, che cos'è l'illuminismo? Ecco, Kant, che è il massimo filosofo del Settecento, scrive un testo per chiarire cos'è l'illuminismo. Bene, l'illuminismo è quel movimento che proibisce alla chiesa cattolica di esistere come tale. Questa è la risposta che Kant dà, senza mai nominare la chiesa cattolica. che infatti scrive una società di ecclesiastici cattolici non ha il diritto di obbligarsi per giuramento a un certo simbolo immutabile, perché questo significa andare contro la natura umana, perché la natura umana, la caratteristica della natura umana è il progresso, è migliorare, e quindi è cambiare le Costituzioni. Non si può pensare di restare chiusi all'interno di una chiesa che ha una Costituzione eterna, perché è dettata da Gesù Cristo, che è Dio. Non si può pensare. Allora, arrestare per un certo periodo di tempo il cammino dell'umanità verso il suo miglioramento, conclude Kant, non è assolutamente permesso. Questo è il disputismo illuminato.